Via, 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 via! Via, via! È buono, è buono, è buono! Vai Emilio, vai Emilio! Corri! E avanti? Adoro! Bravo! Su! Armandus! Attacca, 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 attacca! Così, ragazzi. Hai visto? Non lo vuole. Basta! Sono dieci metri, non sono due centri, dai! Dai che dentro! Guarda! 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 Arma! Aiutati! Guarda! Guarda avanti! Guarda avanti! 10, 10, 10! Bravo, veloce! Guarda avanti! Guarda. Guarda! Guarda avanti! Guarda avanti! Guarda! 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 Guarda, 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 guarda. E' fuori, è fuori! 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 E' fuori! E' fuori, è fuori! E' fuori, è fuori! E' fuori!